Cecilia Francese, ora siamo a bocce ferme e passata dopo le fatiche di questa durissima campagna elettorale, ora le riflessioni si fanno molto freddamente. Allora un giudizio sintetico su questa campagna elettorale e poi parleremo di qualche altra cosa. Ma è stata una campagna elettorale lunga perché poi in effetti, a parte il mese di apertura, la campagna elettorale che dura da aprile, per me è stata una bellissima campagna elettorale perché noi siamo entrati in tutti i quartieri, contatti con le persone e stiamo continuando ad andare nei quartieri in un modo diverso perché tu sai che il ballottaggio è differente, non è che c'è i comizi, c'è un modo di incontrare le persone e di avere la certezza che ci sono e che verranno a votare al ballottaggio. Certo è stata una bella affermazione che il quasi 46% dei consensi, ti dirò che a un certo momento c'eravamo quasi, perché all'inizio erano 58, insomma siccome molti dicevano che vince il primo turno, io non ci ho mai creduto, però è stata una bella affermazione. Ora bisogna continuare, non bisogna abbassare la guardia perché altrimenti tutto il lavoro perso, tutto quello lavoro fatto va perso, ma vedo che tutti i candidati, sai noi ho sempre detto che noi abbiamo costruito il concetto di squadra per cui tutti i candidati si sono rimessi di nuovo in cammino e stanno chiamando dall'ultimo al più votato, insomma per cui tutti tengono che Cecilia diventi si confermi sindaco di questa città, c'è tanto da fare e la città l'ha capito, ha capito che ci vuole la stabilità, ci vuole la continuità soprattutto e mi considero una persona vicino a loro, vedo dei bellissimi posti di persone che non conosco neanche e che mi fanno piacere, quindi sento la vicinanza dei cittadini di Battivaia che vogliono bene a questa persona, magari minuta ma una persona che è sempre sorridente e che cerca sempre di stare vicino al suo popolo, quindi spero che questo sentimento che, ripeto, io stamattina ho incontrato diverse persone girando per Battivaia è un sentimento molto bello, quindi io vi ringrazio i battivaiesi per starmi vicino, dobbiamo continuare perché questi sono giorni importanti, giorni cruciali, quindi andate tutti a votare perché guardi si parte da zero a zero, perché qualcuno pensa che l'elezione è finita, il sindaco ha avuto una bella affermazione ma ora si riparte da capo e quindi dovete andare a votare il 17 e il 18 ottobre, si va a votare e come ho detto si vota per Battivaia. Brevemente, sinteticamente, una promessa alla città? Ma le prime cose da fare, tu sai, quel PUC famoso che tanti dicono che non è nel cassetto, sta sulla scrivania della dottoressa Anna Iorio e quindi non sta assolutamente, però quella sicuramente è una prima delle cose da fare perché la città aspetta da tempo e mi sto già sentendo con i colleghi dell'ospedale e la battaglia per l'ospedale. La battaglia per l'ospedale è unico perché Ebboli e Battivaia e la Piana del Sele non deve morire ma è soprattutto una battaglia a difesa del diritto alla salute. Non è possibile pensare che si possa chiudere un ospedale di Battivaia e lo stesso di Ebboli perché bisogna fare il mega ospedale del San Leonardo. Quella è una battaglia che lo sanno benissimo i colleghi, gli infermieri, tutti coloro che lavorano in ospedale ma soprattutto il popolo di Battivaia me lo chiede, è una battaglia che continueremo è una delle prime cose che farò.